veleni fra i partiti sulla norma che il 9 maggio va in aula manca l'accordo sul catasto manca poco pochissimo solo un tassello la riformulazione di una norma nella riforma del catasto ma non ci sono molti altri margini per trattare non c'è più spazio per rinvii se il centrodestra continuerà a respingere l'accordo la delega fiscale il 9 maggio andrà in aula senza votazione in commissione e a quel punto nulla escluso neanche la fiducia mario draghi ha provato a evitarla ma ha sempre indicato l'obiettivo approvare le riforme il fisco e gli appalti alla camera il csma e la concorrenza al senato ora è giunto il momento di tirare le somme intesa o rottura a giorni il verdetto sulla riforma delle tasse da lega e fai professano cauto ottimismo nel pd e nell m5s si respira un certo pessimismo l'imminente campagna elettorale per le amministrative non aiuta a svelenire il clima il premier però non è più disposto a tergiversare si andrà avanti in nome delle riforme anche senza accordo dopo l'incontro prima di pasqua di draghi con matteo salvini e antonio taiani si è mediato nell'ultima settimana palazzo chigi con il sottosegretario roberto garofoli e il capo di gabinetto antonio funicello ha trattato con i partiti tutti non solo il centrodestra salvini e silvio berlusconi che lamentavano il rischio di aumenti della cedolare sugli affitti e della tassa sui btp hanno tenuto di cambiare la norma sui capitali mobiliari e immobiliari la delega non indicherà più l'approdo a una liquota unica due in fase transitoria ma farà riferimento a un prelievo proporzionale alla possibilità di regimi cedolari il pd ha chiesto e incassato che le irpef si abbassi a partire dai redditi medio bassi il m5s ha voluto che le riordino di deduzioni e detrazioni abbia particolare riguardo alla tutela del bene casa